Lo svincolo Maremonti è aperto dal 29 luglio 2015, percorso giorno e notte da centinaia di automobilisti. Ma non riuscendo a realizzare nulla, i rappresentanti del governo regionale trovano il tempo e lo spazio per inaugurare a sei giorni dalle elezioni un sottofondo di un sottopasso, possiamo ben dire di essere caduti in basso. A dichiararlo è l'ex parlamentare Vincenzo Vinciullo, presidente merito della Commissione Bilancio e Programmazione all'Ars. Vinciullo ricorda che durante i lavori di realizzazione dello svincolo, a causa di una lite insorta con un privato, non fu possibile realizzare del tutto le mura di contenimento e il sottofondo del sottopasso. Oggi hanno consegnato proprio queste mura e il sottofondo del sottopasso. I lavori già finanziati prima dell'insediamento dell'attuale governo regionale sono consegnati a sei giorni dal voto per le europee, senza paura di sfidare il ridicolo, continua ancora Vinciullo, cercando di fare passare la notizia che viene inaugurato uno svincolo autostradale. È chiaro che continuando così si delegittima totalmente la politica e i cittadini si convincono sempre di più di essere presi in giro. Siamo ormai passati in provincia di Siracusa dall'inaugurazione delle autostrade a quella dei sottofondi e dei sottopassi, conclude così l'ex parlamentare Vincenzo Vinciullo. Grazie a tutti.